Invece tra poco vedremo altri due ragazzi che studiano appunto recitazione E quello è un debutto, anche Manuel era un debutto, Francesca aveva già recitato l'anno scorso Loro proprio non si sono mai esibite, fanno il primo liceo, quindi hanno iniziato proprio fresche fresche Hanno fatto pochissime lezioni, qualche mese, eppure hanno l'occasione di stare qui su questo palco Ebbene sì lo spettacolo, vedrà la fiducia che ci deve essere tra due amiche, no forse che non ci deve essere tra due amiche Non lo so, vediamo quello che succede, le amiche del cuore, loro sono Celeste Pascalzi e Domiziana Valeriani Oh vieni corri Odiamo, ma dove andiamo? Sto detto che devi correre e corri L'attimo lo sai che c'ho sti trampoli Amor te devi sbrigà Ma doma che è tutta sta fresche, ma che c'hai? Amor non puoi capire, è arrivato lui Lui chi? Come lui chi? Zagor Ah Amor ma non puoi capire, come? Non sai chi è Zagor? Eh no Oh mamma mia c'è un'ansia, anzi c'è un caldo polare Caldo polare? Eh amore Sei mai africano? Uno Ma ti calmi e mi dici chi è sto Zagor, su Come chi è Zagor? Zagor da Zagarolo Vabbè ho capito tutto allora Amor però se lo sapevo prima io no? Mettevo l'ambito da sposa Guarda eh Tarattata Tarattata Amor E sei un po' esagerata adesso Esagerata dici? Eh beh Dunque è arrivato fighissimo Anzi da paura Quindi ti sei spaventata? Eh un po' si amore C'eva una canottina di rete metallica Fuori gli uscivano i peli E poi al collo c'eva una catena Proprio da paura amore Fattu' di Era tutto pieno dei tatuaggi Dei mostri Fatti proprio da paura Eh si Brava amore Poi è arrivato in piazza Kamoto Ha slittato È cascato E si è rialzato Tutto pieno di sangue E mi ha pure ciocchato Che t'ha fatto? Amore Ma guardate l'ho guardato Ah beh Ho capito tutto Vabbè Sai che c'ho da fare? Sbrigate Che mi devi dire? Poi amore Non puoi capire Stavo tipo a sveni Tipo Barcollo ma non mollo Capito Ma Infatti ma Vabbè Che è successo? Su che c'ho da fare? Poi amore Non puoi capire Non ci stancavo mai Dei guardarci Tipo Tipo all'unisono All'unisono? Con tu siete carini Vabbè Dai Poi che è successo? E poi amore E poi Niente di che C'è Ha fatto Ha fatto rotto E se n'è nato Che ha fatto? Ha fatto rotto Ha fatto rotto E se n'è nato? Eh Ma che Ma Che mi dici? Eh Che ti devo dire? Dico che se c'è un amico Che non rutta Può essere Forse Che usciamo insieme Sì sì Amore Intimo Corloppa Quello non rutta Ma quello puzza Quindi sentiamo Ah no no vai Anzi corri Sbrigate Vai 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 Sto accadendo Sbrigate Grazie.